Sospensione e chiusura per la durata di 15 giorni di un locale in Viale Ferrarin. Il provvedimento preso dal questore di Vicenza consegue a un'operazione della scorsa settimana condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di una dipendente del locale al sequestro di sostanza stupefacente e denaro collegato all'attività di spaccio. Per questi motivi ne è stata disposta la chiusura per 15 giorni come previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che è stata eseguita dal personale della Polizia Amministrativa della Questura e dai militari della Guardia di Finanza.